Presidente Casola, circa impresa, per chi e che cos'è? È un prodotto per dare una vetrina online a tutte le imprese e nano imprese del nostro territorio. Crediamo che ci siano una moltitudine di aziende che ancora non hanno un sito dedicato alla loro attività. Noi cerchiamo di sollecitare una telefonata in CNA perché è un servizio completamente gratuito che mettiamo a loro disposizione. È una vetrina sia per i loro locali che per i loro prodotti, quindi crediamo in questo progetto. Presidente, la Camera di Commercio guarda con attenzione allo strumento internet, alle nuove tecnologie. Lei diceva presto punteriamo anche sull'ampliamento della banda larga. Sicuramente, noi credo che questo progetto promosso da CNA, che ringrazio, tiene conto proprio di una serie di elementi. Il primo è, lo dicevo prima, il digital divide, quindi questa grande divaricazione fra chi utilizza il mezzo tecnologico e chi no. Abbiamo anche delle carenze strutturali che attraverso i fondi pereguativi cercheremo di colmare, proprio con la stesura della fibra e a questo proposito ovviamente le piccole, piccolissime e medie imprese che non hanno la possibilità, a volte nemmeno anche il tempo, di essere presenti su questo grande palcoscenico che è la rete, noi tentiamo con questo progetto di avvicinarli a questo strumento in maniera innanzitutto gratuita, in dolore e accompagnandoli con uno strumento tecnologicamente avanzato che in una prima battuta le avvicina al mercato globale e io dico avvicina il mercato locale al mercato globale e dopodiché attraverso l'utilizzo anche di nuove tecnologie, le app, i sistemi smartphone e quant'altro, cerca di mettere in contatto queste due o tre grandi generazioni la tradizione con la tecnologia, con l'innovazione e quindi secondo noi avvicina anche un mercato di giovani a un mercato tradizionale e questo è un altro degli elementi che contraddistingue questo progetto e che ci soddisfa.